Ciao Sonia, tu sei un'altra concorrente di questa serata, è la prima volta che ti trovi a concorrere o hai già partecipato a cose di questo tipo? No, no, ho partecipato a moltissimi festival, concorsi, anche in tipo, quindi... Molto bene, quindi sappiamo che sicuramente ti troverai molto bene, molto a tuo agio sul palco. Sì, sì, questo sì. Siamo molto curiosi di sentirti, cos'è che ci porti in particolare? Io canto il mio brano inedito scritto da me, si chiama Senti l'amore, e praticamente questa canzone parla dell'amore che ogni persona ha dentro di sé, verso qualsiasi cosa, una persona, un animale, un oggetto, insomma, di esprimerlo, l'amore che ha dentro. Perfetto, molto bene, saremo più curiosi di sentire poi come sarà la tua edizione. Sì, grazie. Per quanto riguarda poi Lucio Dalla, perché è per lui che ci troviamo qui questa sera, lo apprezzi come cantante, è qualcuno in cui magari anche ti rivedi, è qualcuno in cui ti riconosci un po' nello stile musicale? Apprezzo moltissimo la sua guerriera perché ha fatto tanto per tante persone e in comune con lui credo di avere un po' la voce roca. Forte. Sì, come lui. Profonda. Sì. Molto bene, allora aspettiamo di sentirti, vogliamo capire questa tua somiglianza. A più tardi allora, in bocca al lupo. Le mani? Io vorrei riparli di noi, ma non so se tu lo vuoi, il desiderio cerca la mente, non vedo più niente. Chi era prima del mio mondo, tempo ne viene un secondo, tutto cambia in un momento, questo è quello che penso. Il piacere è una nuova cura, per la distezza e la paura, ritrovare un'energia e poi renderla mia. Adesso prendi la mano e stringila forte, alziamo gli occhi insieme, aspettando la notte. Sorridi ogni giorno avrà un braccio di sole, il grigio del tuo amore sbaglierà. Sì. 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 Sì.